L'Ongobarda contro su Spuntino, ottavi di finale della Futsal Champions Cup tra due compagini che in Serie B hanno dato vita a una gran lotta per il titolo subito a Zeni sul calcio e punizione, pallone che termina alto. L'inizio della formazione rossonera è splendido, Angius col destro e in qualche modo Simone Lai gli va a dire di no, il gol è nell'aria e lo trova la formazione di casa con Matteo Azzeni, la sua puntata col destro lascia inebetito Simone Lai costretto a raccogliere il pallone dentro la porta anche sul destro, splendido peraltro da parte di Marco Angius. Qui avete visto il gol del 3-0 realizzato da Alessio Azzeni, Simone Lai strepitoso sul tentativo ancora di Alessio Azzeni decisamente in palla quest'ultimo, Simone Lai bravissimo, poi arriva il quarto gol a realizzarlo e Matteo Azzeni per lui secondo personale. La formazione rossonera è semplicemente divampante, arriva addirittura alla quinta rete, ancora Alessio Azzeni, retroguardia della formazione Gianmarco Boero che non sa che pesci pigliari, bianco-blu però riescono a ridurre le distanze prima del duplice fischio. L'autore del gol è Pregio, con le immagini realizzate alla futura del nostro Andrea possiamo passare alla ripresa, grande avvio della formazione di casa, ancora segno con Marco Angius, punteggio di 6-1. Poi Matteo Azzeni, 7-1 quindi ancora Angius per il gol dell'8-1, punteggio pesantissimo, quello della futura di Selarjus, la squadra della Longobarda continua ad attaccare qui Azzeni, conclusione deviata, palla che sbatte sul palo, poi Angius per Alessio Azzeni, il suo destro termina alto, Angius che nel finale andrà a colpire il palo, finisce così clamoroso, 8-1 col quale la Longobarda si qualifica ai quarti, affronterà il pistolero. Grazie.